Clima infuocato ed animi accesi sarebbero queste, stando alle indiscrezioni le premesse del nuovo vertice che andrà in scena domani nel cammino verso la redazione dell'atto aziendale dell'ASL di Salerno. I toni esasperati caratterizzerebbero soprattutto l'incrocio di fioretti tra aziende ed organizzazioni sindacali della dirigenza medica e del comparto. I sindacati avrebbero in particolare sigmatizzato il fatto che l'ASL non avrebbe fornito alcun documento ufficiale quale bozza di lavoro. I dirigenti incaricati per le trattative sono Palladino per gli ospedali, Gentile per i distretti, Cagliazza per il Dipartimento di Prevenzione d'Area Veterinaria, Ambrosio per le funzioni centrali, Pizza per la salute mentale. Sino ad ora è stato affrontato l'argomento rete ospedaliera, indicati in Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, idea di terzo livello, inscafati in Roccadaspide e ospedali della riabilitazione lungodegenza con 80 posti letto ciascuno. Capitolo a parte, l'ospedale del Sele con funzioni integrate tra le varie specialità esistenti ad Eboli, Polla, Battipaie ed Oliveto Citra, col nodo ancora da sciogliere sul destino di Agropoli in attesa della sentenza del Tar. Sarno si riconferma polo di secondo livello con servizi per acuzia ed elezione di livello avanzato. Il tutto nella logica dipartimentale dei dipartimenti di area medica, chirurgica, neuroscienze, oncoematologia, pronto soccorso ed urgenza, materno infantile, laboratori e servizi. La contestazione delle organizzazioni sindacali durante il primo incontro pare si sia concentrata sui rapporti tra direzione dei presidi e direzione dei dipartimenti con il denunciato rischio di sovrapposizione di funzioni e mancata individuazione dei livelli di responsabilità. Novità sul fronte dei distretti con le unità operative di materno infantile, riabilitazione e protesica, endocrinologie, diabetologia, cure primarie, neuropsichiatria infantile, branca che lascia la salute mentale per essere ospitata all'interno dei consultori familiari, servizi di farmacie, dipartimenti della riabilitazione, cure primarie e materno infantili. La neuropsichiatria infantile entra nel materno infantile lasciando la salute mentale e quindi realizzando un setting più idoneo alle cure pediatriche. Le endocrinologie e diabetologie, intese come malattie sociali, lasciano l'ospedale per entrare nella realtà dei distretti. Il Dipartimento della riabilitazione prevede segmenti ospedalieri e territoriali per consentire continuità di cura tramallato in ospedale e a domicilio, così come il materno infantile che deve necessariamente riportare in asli il parto, in quanto la metà dei bambini nasce fuori dai circuiti aziendali. Ha suscitato quanto meno interesse la proposta del Dipartimento di Prevenzione, che appellandosi alla vastità del territorio, spinge per la suddivisione in Dipartimento Area Nord e Dipartimento Area Sud. A fronte della posizione e delle indicazioni assunte dal Direttore Generale Squillante sull'unicità della ASLA e la necessità di ridurre le strutture complesse, il doppio Dipartimento Sud-Nord avrebbe come ricaduta l'analoga situazione per l'area veterinaria, il Dipartimento della Salute Mentale e il Dipartimento delle Dipendenze, dunque con un numero di strutture complesse di gran lunga più ampio rispetto alle 82 autorizzate dalla Regione Campania per l'area territoriale.